In questi giorni si parla continuamente dei profughi dall'Ucraina. E questo provoca in molte persone dei sentimenti giusti, di compassione, ma fa dimenticare altri sentimenti pure giusti che io vorrei ricordare. Perché sento un po' da molte parti, anche da parti, diciamo così, inattese, delle proposte, delle reazioni che mi lasciano sgomento. In effetti noi, con i migranti ormai e castraeuropei, da molto tempo siamo abituati a ricevere queste persone che cercano un modo di vivere dalle nostre parti. Sbarcando, come sappiamo, quasi sempre a sud Italia e rimanendo spesso proprio da questa parte. I luoghi che sono, soprattutto nelle città piccole e medie, abbastanza abbandonati dalla popolazione locale. E qui andiamo a discutere quello che voglio dire brevemente adesso. Ma vediamo che cosa succede quando un migrante e quindi anche quelli dell'Ucraina arrivano. I massi media ne fanno la esaltazione, ne fanno un quadro assolutamente umanitario, assolutamente portato ad accettare senza discutere tutto quello che si è deciso di fare da parte del governo, ovviamente. Il quale governo, e questo è importante, prepara centri di accoglienza, prepara fondi per l'accoglienza, prepara case per l'accoglienza, prepara mensili per il mantenimento. Tutte cose sacrosante e senz'altro dovute per aiutare i bisognosi, ma stiamo attenti. Che cosa fa lo stesso Stato? E parlo di quelli italiani. E senza dover andare nella storia precedente, anche del secolo scorso. Andando soltanto nella storia attuale. Che fa questo Stato per le centinaia di migliaia di giovani, soprattutto laureati, che dal sud Italia partono continuamente per cercare fortuna, non solo nel nord Italia, ma anche in Europa e dovunque, senza voler scegliere di fare un viaggio di questo genere. Cioè, lo stesso Stato, che fa le cose che ho detto prima nell'accoglienza per questi sfortunati di altre nazioni, non dà nessuna possibilità ai suoi figli, tra virgolette, migliori, tra virgolette, perché sono persone anche di un livello di capacità superiore a quegli altri che vengono, di rimanere nella propria città, nella propria terra. Ad essi nega tutto. Nega possibilità di inserimento, nega aiuti materiali, nega una moratoria quando si tratta di piccole imprese, di piccoli professionisti che vorrebbero rimanere qua, ma sono tartassati dal fisco e da altre organizzazioni che sono dalle nostre parti. mette tutto contro affinché questi siano costretti ad andarsene, ad abbandonare i propri genitori anziani, spesso, che ancora peggio, qualche volta li seguono, e quindi se ne vanno pure loro e quindi lasciano una casa abbandonata qui. ed ecco i famosi paesi del sud, soprattutto per i piccoli, con più della metà delle case chiuse da anni e anni e che stanno per aumentare di numero con i giovani che se ne vanno continuamente, perché lo Stato non li vuole qua, non li aiuta, non stanzia fondi, non fa centri di formazione e accoglienza, non dà la loro possibilità di vivere. chiude tutte le possibilità di vivere ai giovani meridionali, come aveva chiuso tutte le possibilità di vivere ai loro nonni nel secondo dopo guerra, nel primo dopo guerra, alla fine dell'Ottocento. Li aveva scacciati da questa terra dove erano stati qua per secoli e secoli, otto secoli, senza nessuna possibilità di aiuto. e allora come si fa a parlare di essere contenti di aprire i nostri paesini a questi rifugiati quando non ci sono quelli che avrebbero il diritto di starci e che sono stati costretti ad andarsene? Lo ius soli varrebbe più de lo ius sanguinis. Non voglio dire quale vale di più, ma potrebbero varre pure perlomeno allo stesso modo. Noi siamo arrivati al punto che i meridionali dovrebbero essere contenti di essere trattati come i migranti e invece no, sono trattati peggio. Allora qual è stato umanitario? Qual è stato giusto? Qual è stato civile? E' questo che uccide una parte dei suoi figli e ne adotta altri al posto di quelli che avrebbero il diritto sacrosanto di vivere la nostra terra. una vergogna, un crimine enorme che molti che si dicono meridionalisti stanno avallando dicendo sì, siamo pronti ad accogliere. Ma perché non vanno a cercare i loro vicini di casa che quando erano piccoli c'erano e adesso stanno chissà dove nel mondo messi in mal modo all'80% perché non vanno per fare soldi. Non è più il tempo di scoprire l'America, come si dice. Quindi io sono essere fatto da questi che parlano soltanto dei nuovi e non parlano dei vecchi. I nostri fratelli, i nostri figli. Certo la madrigna non ha importanza per sé un figlio astro oppure un figlio adottivo. E questa è la ragione. Quando la capiremo potremo anche salvarci. Ma soprattutto smettiamola di dimenticare quelli che ci hanno tolto da vicino a noi ogni volta che vediamo uno nuovo che viene vicino a noi. Lo Ius Sanguinis grida vendetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.